E' bella a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo mio nuovissimo video oggi sono qui con me sul retro sia di qui che di qui per parlarvi di come vendere i bitcoin appunto di crypto tab Adesso abbassiamo un attimino e voi mi avete chiesto si noi TIA li stiamo facendo li abbiamo fatti innanzitutto vi lascio il link qui in descrizione come già detto sul retro ma dove li dobbiamo spostare per poi andarli a vendere e io oggi sono qui appunto per spiegarvi come funziona tutto il meccanismo E quindi ragazzi come funziona come già detto voi dovete installare semplicemente il link che vi ho lasciato direttamente in descrizione sia il primo che il secondo se volete entrare anche nel gruppo telegram Dedicato appunto a crypto tab una volta che l'avete installato molto semplicemente andate ad attivare il mining da questo qui adesso io ne ho mainati 7.460 0,00 che qui valgono più o meno oggi che è salito tanto il valore a 4 dollari e 306 quindi più o meno saranno 3 euro e 50 all'incirca Qui c'è l'affigliato adesso noi in mining network siamo in 20-23 persone vedete quindi più entrate più abbiamo il boost di potenziamento come già detto Voi cosa dovete fare quando voi andate qui dovete poi andare su ritira btc quando voi andrete a ritirare il vostro diciamo portafoglio voi potete cioè voi dovete mettere qui un indirizzo di bitcoin perché come funziona voi dovrete andare adesso ve lo farò vedere sul telefono Intanto vabbè siamo su clash royale ma ok diciamo che io mi sono creato raga un piccolo schermettino adesso lasciate stare questa cosa qui che non serve letteralmente a niente quindi possiamo anche togliere Però mi sono creato un piccolo schermettino anche di qui con dei grafici con i miei due portafogli online L'ho provato sono molto semplici con io veramente semplicissimo per tutti adesso qui ragazzi come vedete io ho spostato ho fatto una piccola transazione che ci ha impiegato 3 giorni La mattina del quarto mi erano appena arrivati di ben 67 centesimi all'epoca di 1699 e btc E adesso equivalgono a 78 centesimi quindi hanno avuto più o meno un upgrade di un 12 ovviamente se uno metteva lì 4 euro adesso magari erano già 4 euro e 50 ipoteticamente Quindi qui molto semplice voi cosa dovete schiacciare dovete schiacciare su mostra indirizzo ovviamente qui sarà tutto blurato e non vedrete niente E ci sarà scritto assolutamente sotto il vostro indirizzo lo dovrete andare ad inserire qui dove c'è scritto aggiungi indirizzo L'importo quindi potete mettere tutto il saldo o anche non lo so almeno 0.001 io adesso ce l'ho 00007 quindi potrei mettere anche solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fino al conto massimo Mettere non solo un robot ed inviare il vostro pagamento quindi veramente molto semplice poi quando sarete su per esempio conio ipotesi Voi andrete su mercato vendi e venderete il vostro cosa ovviamente 70 centesimi sono troppo pochi da vendere quindi dovrete aspettare un attimino ma è veramente molto molto semplice Altra cosa ragazzi molto molto più professionale è crypto.com ragazzi adesso vedete ipotesi sono 46.015 qui ovviamente è tutto blurato E questo qui molto molto semplice ovviamente dovete essere sempre maggiorenni quindi con un genitore dovete fare questo portafoglio Voi cosa fate? Potete schiacciare su quello centrale su crypto wallet ovviamente dal crypto wallet veramente in modo semplicissimo dovete andare su trasferisci Deposita BTC decidete che cosa e qui vi uscirà ovviamente qui tutto blurato vi uscirà il link che dovete andare ad inserire sempre in questo importo qui Se voi entrate con il mio link ci saranno dei bonus conto tra virgolette di 25 dollari da gestire come volete voi Quindi io vi lascio il link sia dell'app Conio che dell'app CryptoTab canale telegram Conio e crypto.com direttamente tutto in descrizione Poi se volete maggiori dettagli farò un altro video a riguardo magari più avanti quando farò una prossima transazione Quindi da Tia The Gamer e dai due Tia dietro è tutto un saluto un ringraziamento un bel like un commentino e noi ci ribecchiamo ad un prossimo video Bella Ciao! 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 Ciao!